Buona giornata amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV con la quale la nostra emittente inizia le trasmissioni della giornata. Oggi è giovedì 3 agosto 2023, è una giornata di metà settimana, siamo in agosto quindi pensiamo alle vacanze anche se purtroppo il lavoro incombe. Benissimo, cominciamo subito con l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi. Oggi è la festa di Sant'Aspreno di Napoli, fu il primo vescovo di Napoli, visse tra il primo e il secondo secolo, fu consacrato vescovo da San Pietro che era in viaggio verso Roma, si era fermato a Napoli. Sant'Aspreno, una volta convertito, costruì la chiesa di Santa Maria del Principio, dove poi sarebbe sorta la Basilica di Santa Restituta e quindi il Duomo di Napoli, la Cattedrale. Sant'Aspreno compì molti, molti miracoli, guariva specialmente le persone dal mal di testa e quindi ancora oggi è invocato contro l'emicrania. Quindi se avete un po' di mal di testa, più che di un cachet, fate una preghiera a Sant'Aspreno e vedrete che forse un miglioramento lo otterrete. Questo per quanto riguarda il santo del giorno e ora vediamo le previsioni del tempo. Almeno per oggi cambia poco, ulteriori cambiamenti sono previsti per la giornata di domani, ma intanto restiamo sulla mappa per quanto riguarda il tempo di oggi. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. I venti saranno al mattino tesi da sud e sud ovest, al pomeriggio moderati da sud e sud ovest, lo stesso quindi non cambia. Le temperature si aggirano tra i 25 e i 34 gradi e il mare, le condizioni del mare ce le facciamo dire da Giovanni Dallago che è il concessionario di spiaggia di Animal Lido. La spiaggia che stiamo visitando in questa settimana è una spiaggia particolare perché è una spiaggia in cui è permesso l'accesso dei cani, quindi coloro che amano i loro animali e vogliono ugualmente andare in vacanza non li abbandonano, non li lasciano in casa, non li mandano in pensione, ma li portano con sé in riva al mare. Buongiorno Giovanni, com'è il mare oggi? Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora oggi è una splendida giornata di agosto, il mare è calmo, l'acqua è bella e ancora per oggi, giustamente come avete detto voi, ci dobbiamo godere il mare. È bello veramente questa immagine che vediamo con il tuo viso illuminato dal sole che si è alzato da poco e il mare placido che infrange le sue onde sulla battigia. Il fondale è basso, vero? Non ci sono profondità improvvise nella tua spiaggia? No, qua generalmente in tutta la zona è un fondale molto adatto anche alla famiglia e ai bambini perché è molto graduale e quindi si riesce a camminare anche quasi vicino alle scogliere e anche quando c'è l'alta marea. Ma dimmi, i cani amano l'acqua, amano tuffarsi tra le onde oppure sono un po' resti? Allora, ci sono diverse tipologie di cani ma ci sono soprattutto quelli di cani d'acqua che tipo i Golden, i Labrador ma anche per esempio i Barboncini e altre tipologie che amano molto il mare. Da quando capiscono di venire al mare i padroni ci riferiscono che non vedono l'ora ma quindi si agitano e cominciano a tirare da quando parcheggiano la macchina per arrivare fin qui. Certo che addirittura riconoscono il loro ombrellone di anno in anno. Addirittura? Piazzano sotto il loro ombrellone. E poi ci sono alcune razze che sono votate anche al salvamento delle persone. I Golden Retrieve sono una di queste. Sebbene addestrate possono riuscire a salvare anche delle persone in difficoltà. Nella tua spiaggia comunque c'è il bagnino di salvamento. Siete sempre allerta perché non si verifichi alcun problema, è vero? Sì, assolutamente. Poi soprattutto qua a Fanno c'è una scuola molto importante di cani da salvataggio che è la K9 con cui spesso e soprattutto negli anni passati abbiamo fatto anche delle manifestazioni congiunte nella spiaggia. Comunque ci sono soprattutto, come dicevamo prima, delle tipologie di razza che sono molto più votate di altre. Ma generalmente durante la stagione sono pochissimi i cani che non entrano in acqua anche perché il fondale basso aiuta anche a loro, oltre che a noi. Senti Giovanni, nella tua spiaggia i cani sono tenuti al guinzaglio oppure possono circolare liberamente? Allora, i cani soprattutto diciamo nelle aree comuni sono tenuti sempre al guinzaglio quindi sotto gli ombretoni nella zona del bar e possono stare liberi solamente nell'area di sgambamento che è un'area recintata chiusa e dentro l'acqua quando nuotano. Questo è proprio da regolamento. Quindi quando, anche perché potrebbe essere pericoloso lasciarli legati mentre stanno portando. Benissimo, benissimo. Quindi la situazione è sicura, tranquilla, pacifica ed è la situazione ideale per ogni vacanza. Benissimo Giovanni. Ok, noi ci risentiamo domani, sempre puntuali. Ci dai il buongiorno e speriamo che anche domani, che sembra che il tempo cambi, insomma la situazione invece rimanga tranquilla. Grazie e buona giornata. Grazie e buona giornata a tutti. E dopo questo escursus sulla spiaggia diamo un'occhiata ai giornali invece noi qui in studio. Apriamo il resto del Carlino sulla pagina di Fano e vediamo che ci sono dei lavori importanti che l'amministrazione comunale sta eseguendo al porto di Fano. Si sta rinforzando la diga foranea. La diga foranea con i suoi scogli è stata dissestata dalle continue mareggiate violente che si sono susseguite durante l'inverno e quindi ha bisogno di un consolidamento. Barricate contro il mare, scattati i lavori al porto. Sono interventi di sistemazione di un largo tratto della diga foranea. Che cos'è la diga foranea? È quella barriera di scogli che tutela tutto il porto. È il porto della cantieristica, il porto turistico, circa 900 metri di barriera appunto che tutela tutti gli ormeggi. Il vice sindaco Cristian Fanesi, che è delegato appunto per i lavori delle scogliere e appunto anche quello del porto, dice che è un intervento piuttosto urgente. La posa in opera consiste di circa 7.000 tonnellate di massi. Dopo questo, insomma, la diga foranea consentirà una resistenza veramente efficace nei confronti dei marosi. Si tratta di un intervento importante ad aggiudicarsi i lavori per un importo di 445.000 euro. È stata la ditta Sefa Italia di San Vitaliano, in provincia di Napoli, che ha offerto un ribasso del 17,22%. A fondo pagina invece abbiamo un articolo che riguarda il Covid. Sembra che parliamo della preistoria. In realtà, in realtà, il Covid è ancora presente tra noi. Certo è che d'estate, anche quando l'epidemia era nel massimo della sua diffusione, d'estate c'era una sorta di rallentamento. Oggi che l'epidemia è quasi, ma dico quasi, sconfitta, d'estate si sta più sicuri. Ma in realtà ancora non è del tutto scongiurata. Ebbene, questo articolo riguarda invece l'accusa che era stata mossa nei confronti di due fanesi che erano stati multati perché non si erano vaccinati. Allora la vaccinazione era obbligatoria. Multati per non essersi vaccinati ricorrono alle vie legali e vincono. Vincono perché la sentenza che è stata pronunciata dal giudice di pace di Fano, si tratta di Periclel Tagliariol, ha dato ragione a due 65 anni della provincia che nonostante avessero superato i 50 anni di età non si erano vaccinati come allora imposto dal governo. Erano stati multati. Si tratta di un decreto che era in vigore con una multa di 100 euro a chi aveva superato i 50 anni e non si era multato. Il giudice ha detto che quella multa è illegittima. Giriamo la pagina e troviamo una lunga intervista effettuata da Maurizio Gennari a Francesca Puglisi, l'esponente del Partito Democratico che si era pronunciata in maniera molto critica nei confronti della Giunta Seri, in modo particolare per il fabbricato che sta sorgendo, ormai quasi completato, nella zona della cantieristica del porto di Fano. Ascolta le critiche o sei perdente è il titolo. Francesca Puglisi torna alla ribalta locale per confederare la sinistra. Era presente l'altra sera all'incontro che si è tenuto da parte di alcune forze del centro-sinistra, ovviamente non inserite nell'alleanza del Partito Democratico e del Civismo che regge attualmente il Comune di Fano, ma insieme a Ribella la forza politica di Teodosio Auspici, Bene Comune, Movimento 5 Stelle, il Partito Socialista, e il Partito Socialista, poi mi sembra che ci fosse anche, diamo un po', Socialisti, Bene Comune, Verdi, e i Verdi, i Verdi che mi ero dimenticato di menzionare. Una intervista dove la Puglisi, con la quale l'antivisi risponde a domande piuttosto incalzanti che fa il giornalista, ne leggo una. Lei a Pasqua è stata durissima con la giunta Seri, un lavoro così a Bologna, ti vengono a prendere con i forconi, come se Seri avesse così governato a Bologna e la popolazione si fosse ribellata in pieno. Ebbene ora la Puglisi fa un piccolo passo indietro e dice quello andava preso come uno scapellotto bonario, in realtà al momento ha avuto un'efficacia di un cazzotto nello stomaco, oserei dire. Anche i giovani protagonisti nell'aiuto ai soggetti disabili, questo è un articolo di fondopagina che riguarda 94 giovani e 22 adulti che sono protagonisti delle attività estive promosse dall'ambito sociale numero 6 per contrastare l'immaginazione delle persone con disabilità. Sono otto i soggetti del terzo settore che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, il cui esito è stato presentato ieri dall'assessore Tinti e dall'assistente sociale che collabora con lui nell'assessorato al welfare di comunità per incrementare l'integrazione dei soggetti disabili in tutti i centri estivi. Quei centri estivi che sono molto importanti, che operano, che siano aperti d'estate, in quanto d'estate, non essendoci poi l'anno scolastico, i bambini sono con le famiglie, dove ci sono i genitori che lavorano entrambi, il problema si pone. E quindi questo servizio diventa molto importante, molto importante soprattutto per chi in famiglia deve accudire ad un bambino disabile oppure di una persona anziana che non è più autosufficiente, quindi un servizio aggiuntivo da parte del Comune che poi si estende anche in alcuni comuni d'ambito. Ubriaco di prima mattina e contromano, un giovane rischia il disastro sul lungomare e è accaduto a Marotta. Per fortuna è stato fermato dai vigili urbani. La polizia locale ha bloccato un giovane al volante di una utilitaria a Marotta. Si tratta di un 22enne pesarese. Aveva un tasso alcolemico del quadruplo rispetto al consentito. Lui non ha la patente da più di tre anni e quindi il tasso alcolico doveva essere pari a zero. In realtà aveva due grammi per litro e quindi ha dovuto pagare delle conseguenze piuttosto importanti. La denuncia penale e poi rischia una multa da 2.000 a 9.000 euro e l'arresto fino a un anno e mezzo. Questa è un po' quanto prescrive la normativa oltre alla sospensione della patente per un triennio. Stava procedendo in direzione sud nel tratto di litorale tra Piazza dell'Unificazione e il sottopasso ferroviario di Via Togliati. Una strada a senso unico che lui percorreva in senso contrario. Quindi con il tasso alcolico superiore nel senso contrario insomma veramente ne aveva fatte di tutti i colori. A Staciola tiene banco la Sagra della Crescia sabato e domenica in questo bellissimo paesino frazione di San Costanzo si terrà la 36esima edizione di questa sagra. Una sagra gustosissima. Ed ora ritroviamo anche il nostro Vescovo continuiamo a chiamarlo così Armando Trasarti se n'è andato, se n'è andato in silenzio ovviamente abbiamo accolto con grande felicitazioni il nuovo Vescovo Andrea Andreozzi ma non possiamo dimenticare il Vescovo Armando e non lo dimentica nemmeno San Lorenzo in campo il quale ha consegnato una benemerenza civica appunto al Vescovo che ora se ne sta nella sua casa di fermo si tratta di un'alta benemerenza della cittadinanza onoraria perché, questa è la motivazione ha sempre dimostrato di avere a cuore l'intero territorio diocesano l'intero territorio diocesano non solo quindi la sede della diocesi Fano non solo le città, i paesi più importanti ma insomma tutto il territorio e questo gli fa veramente onore con costante fraterna missione con la presenza, la vicinanza, la prighiera il sostegno e sentimenti autentici di padre premuroso e zelante pastore questa appunto è la motivazione passiamo ad Urbino ebbene tra le cose belle di Urbino non ci sono solo gli aspetti medievali l'atmosfera di una città con un'antica storia ci sono anche delle curiosità che devono essere mantenute e quindi ben curate si tratta delle meridiane ne sono ben cinque dislocate nelle facciate delle case urbinati e qui ne vediamo alcune ne vediamo quelle che sono vicino a Palazzo Ducale nella sede delle università in altri palazzi sono cinque gli antichi orologi che forniscono l'ora grazie all'ombra proiettata dal sole il più recente di tutti è stato commissionato nel 1996 da niente bene che da Carlo Bo il rettore della università nella sede della facoltà di economia all'epoca ancora in ristrutturazione ebbene tutte queste meridiane ora vengono recuperate vengono ora restaurate anche da chi da chi se ne intende ovviamente perché poi bisogna calcolare bene la posizione geografica della facciata calcolare bene i segni con cui poi si segna il progredire dell'ombra proiettata dal sole ebbene in questo caso abbiamo un tecnico un tecnico che riesce non solo a restaurarla ma è uno anche che le ha realizzate e quindi c'è anche questa particolarità delle attrazioni della città di Urbino e vediamo anche questo articoletto con un fondo violetto che il resto del calino pubblica a fondo pagina Massimo Seri il sindaco di Fano aderisce alla lista Urbino capoluogo è entrato a far parte di questa lista così come afferma Giorgio Alondei e Ferruccio Giovanetti che sono rispettivamente presidente e vicepresidente vicario di questa associazione locale questa iscrizione testimonia hanno detto come Urbino capoluogo abbia cuore i problemi dell'intera provincia quindi non solo della cittadina qua è come cerchi di entrare in sinergia tra l'entroterra e la costa quindi il collegamento con Fano risulta importante anche per la città docale ma restiamo ancora ad Urbino per evidenziare una mostra anzi una doppia mostra omaggio a Carlo Ceci sabato saranno inaugurate due mostre per ricordare l'artista morto dieci anni fa ripubblicate le sue dispense di storia del costume la prima mostra si terrà alla casa natale di Raffaello la seconda all'oratorio di San Giovanni si aprono entrambi sabato alle ore 11 e alle 17 e 30 nel pomeriggio senza depurazione liquami nei fiumi e rischi a Cantiano ebbene l'alluvione dei mesi scorsi ha procurato seri danni che ancora devono essere riparati a Cantiano vediamo meglio il titolo che appare eccolo qua e ne parla proprio il sindaco Piccini il quale afferma come ancora non si è riusciti ad attivare la depurazione e quindi i corsi d'acqua che trascinano la melma il fango specialmente poi quando piove l'acqua diventa molto molto torbida ebbene quest'acqua qui dove scarica scarica nei corsi d'acqua senza essere depurata e questo è un problema da quasi dieci mesi ha detto il sindaco Cantiano non ha più un depuratore per i danni dell'alluvione stiamo sversando nell'alveo dei fiumi acque chiare e nere senza alcuna filtrazione quindi questo è un problema di carattere ambientale che deve essere risolto in maniera precoce LCSPA va bene premia i dipendenti a Isola del Piano una azienda dotata di senso civico imprenditori illuminati fino a 1000 euro netti e la montare del premio di produzione che andrà ai dipendenti appunto di questa ditta un'azienda di Isola del Piano leader in Europa nella produzione di mobili living in base agli obiettivi raggiunti la nostra azienda ha detto Lucia Campanelli figlia di Lorenzo che è il fondatore anche quest'anno ha deciso di dare questo contributo extra ai propri collaboratori quindi un premio di produzione e quindi un collegamento ancora più stretto tra dirigenza e organico della ditta vediamo anche ora le pagine pesaresi dove ci sono proteste proteste per quanto riguarda ma in questo caso più contenute rispetto a altre parti d'Italia che riguardano dicevo il reddito di cittadinanza reddito di cittadinanza la cernita e i servizi sociali sono il salvagente nella nostra provincia sono 347 le persone che hanno ricevuto l'SMS dall'Inps che interrompe l'erogazione del reddito di cittadinanza ed è stato quello il motivo per il quale come riferisce Roberto Drago che è il coordinatore dell'ambito sociale numero uno tanti si sono precipitati ed hanno chiamato i servizi sociali dei comuni perché temeva di perdere di essere completamente scoperti poi dalla privazione del reddito di cittadinanza così non è perché poi da settembre riceveranno un nuovo sussidio l'altra protesta riguarda invece il caro benzina scusi perché qui si paga di più l'hanno detto molti clienti ai distributori dove c'erano prezzi superiori alla media regionale e alcuni alcuni benzinai si sono trovati in imbarazzo ma dobbiamo dire che non è che loro fanno i prezzi i prezzi li fa l'azienda produttrice quella che rifornisce la benzina ai benzinai loro il loro guadagno è sempre lo stesso quindi loro sono un po' quelli che fanno da filtro nei confronti dei clienti e delle aziende dei quali sono quasi dipendenti insomma e ieri il prezzo medio regionale era fissato a 1,762 per il diesel e 1,901 per la benzina ma molti benzinai ormai sono arrivati in prossimità dei 2 euro 1,980 89 insomma sono un po' questi i prezzi che vanno nella nostra provincia seppure la regione Marche è una delle più virtuose rispetto all'andamento nazionale vediamo ora il Corriere Adriatico l'apertura è dedicata all'incontro che c'è stato l'altra sera per il restauro del Bastione San Gallo torre accessoria di transito al Bastione Capienza doppia poi vediamo un articolo che riguarda l'azienda per i servizi alla persona il cui progetto viene un po' rivisto ridimensionato per trovare un accordo con le aziende del terzo settore dal sindaco Massimo Seri e dall'assessore al welfare Dimitri Tinti abbiamo anche l'articolo che riguarda la disabilità nei centri estivi comunali e privati il provvedimento assunto sempre dall'assessorato al welfare per incrementare le possibilità di accesso delle persone più fragili nei centri estivi per il mese di agosto ancora sulla pagina di Senigallia vediamo che ancora il Gembory fa sentire i suoi effetti purtroppo mancano i treni notturni e coloro che devono tornare a casa devono utilizzare per forza la propria auto un ultimo articolo per quanto riguarda Senigallia la casa vacanza esiste solo sulla carta caparra in fumo beffata una famiglia è la solita truffa uno prenota una vacanza online però quando arriva sul posto la casa non c'è state attenti dunque a fornirvi di dati certi e di dati comprovati e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani per le notizie del giorno alle ore 20.30 sulle TG di Fano TV Occhio alla Notizia grazie per l'ascolto a risentirci